La vostra idea di piano energetico per raggiungere gli obiettivi dell'Europa che ha dato un'accelerata, bisogna capire se siamo all'altezza di farlo. C'è questa politica del no in questo paese che si scontra con i progetti che hanno a che fare con le rinnovabili. Allora, parto così, parto dal no. Come contrastarlo senza entrare nel merito della ragione, del sì o del no? Io la metto così. Ciascuno di noi può legittimamente posizionarsi rispetto alle riflessioni che il presidente Rere Baudengo ha spiegato molto chiaramente oggi e all'analisi che ha fatto il ministro che ho trovato molto puntuale. E ciascuno mette i puntini sulle i e racconta perché aveva ragione quella volta oppure tutta questa parte qui secondo me non serve più. Cioè noi viviamo in un tempo eccezionale. E questo tempo eccezionale pone non l'esigenza di rimettersi d'accordo sul passato. Io e la Muroni sul Trivelle non saremo mai d'accordo. Ma non soltanto su quello. Magari con la Muroni eravamo d'accordo su, che so, Casa Italia e Italia Sicura che è stata eliminata all'inizio di questa legislatura e che avrebbe consentito di recuperare una parte delle emergenze idriche cui Cingolani ha fatto riferimento in modo molto serio. Tuttavia oggi dobbiamo avere consapevolezza che quello del 24 febbraio è un cambio di gioco radicale. Io penso che sia un cambio di gioco radicale sulla geopolitica. Non è questo l'argomento per parlarne. È un cambio di gioco radicale sulle questioni energetiche. Allora, la politica del no ormai non ha più casa. È chiaro però che per avere una politica del sì, Roberto ha parlato di una sorta di coesione tecnica sulle cose da fare, dicendo non è una coesione politica. Io dico che deve essere anche una coesione politica. Cioè vi dico quello che mi piacerebbe a proposito di politiche del sì. Re Rebaudengo ha dato dei numeri. Cingolani ha detto guarda che sul 2022 siamo già più avanti. Poi se siano 5, 6, 7, naturalmente tutti noi facciamo il tifo perché si arrivi il più alto possibile. Però poi la curva da qui al 2030 è una curva vagamente impegnativa. Quanto abbiamo l'ottantaquattro per cento? Non ricordo i numeri che avete fatto vedere. Per arrivarci, e ho finito, la mia proposta è la seguente. Da qui alla fine dell'anno i partiti, tutti, mettano da parte le legittime, ancorché discutibili bandierine sui singoli provvedimenti del passato. Lo dico per primo io che c'ho una specializzazione nell'andare a rivendicare le cose del passato. Quindi per primo lo dico a me stesso. E proviamo su un'idea di fondo. Noi dobbiamo arrivare lì, a quei numeri. Poi può essere il 5% in più, il 5% in meno di quello che ha detto la vostra associazione oggi. Ma noi dobbiamo arrivare lì. Poi c'è qualcuno che dice che ci arriveremo con due anni di ritardo. Non lo so. Non mi interessa neanche alla fine. Proviamo in questi sei mesi a affermare un unico rifiuto del no. Quello di ragionare in modo logico. Io per esempio quando ho visto in una regione italiana, con la coordinatrice delle regioni, non è la sua, la moratoria delle rinnovabili, che adesso è scaduta. Quindi non ne parliamo. È anche questo pezzo del passato. Va bene, Rossella? Mi è preso male. Perché se noi facciamo la moratoria persino delle rinnovabili, non dico delle trivelle o degli impianti di petrolio in Basilicata, ma delle rinnovabili scadute al 30 aprile 2022, significa che ci stiamo dando la zappa sui piedi. Diamo un messaggio di fondo. Su questi temi noi abbiamo quest'anno crisi energetica, carestia. Non in Italia, se Dio vuole, ma comunque 20 paesi africani rischiano grosso. Siccità, perché ce la potevamo far mancare. In Sicilia sono arrivate le cavallette. Non ci mancava altro che ci arriva l'invasione delle cavallette. Abbiamo pure questa. Una cosa facciamo. Su questi numeri, tutte le forze politiche, fino a dicembre, poi da gennaio parte una campagna elettorale di botte da orbi, per carità di Dio. Quando c'è da picchiare ci siamo, ma fino a dicembre siamo all'altezza della gravità della situazione, perché dopo il 24 febbraio è cambiato tutto e l'Italia rischia di essere il vaso di coccio dentro una crisi mondiale che vede Stati Uniti e Cina, in primis, gli spettatori più interessati a ciò che avverrà nei prossimi mesi, in Ucraina e non solo in Ucraina. Abbiamo altre tavole rotonde adesso da affrontare. È un percorso difficile, come ha ricordato Gentiloni, come avete ricordato voi, ma è fattibile. L'ho detto Bonomi che è fattibile. Insomma, lo dicono gli imprenditori che si può fare. Sono coloro che osano di più e che mandano avanti questo paese. Ci salutiamo con una canzone che vi rappresenta, che in qualche modo ci fa sperare. Parto con Renzi perché so che in questo è esperto. Vabbè, io appartengo a una generazione vecchia, vecchia, vecchia. Ormai sono dai più vecchi, non posso che mettere pure il vento soffi ancora di Bertoli. Grazie.